Delle visioni che emanano le stesse radiazioni per confondere e manipolare le opinioni Tu da che parte stai? Dalla parte giusta dove le porte si aprono con una busta Boom boom dinamite sulle tue pepite d'oro, ridi e godi mentre c'è gente che non ha un lavoro E in giro vedi gente che striscia e annaspa mentre piangono senza un soldo in tasca E le madri di quei figli senza opinioni ridono con un martello in mano e giù dover dosi E le spine dorsali dure come grissini ed un sorriso in faccia da bravi soldatini E tutti in fila indiana a pregare con le mani giunte mentre il dio denaro vi benedisce Tintinante padre la cruna del lago sera impicciolita prescrizione caro è la via d'uscita Di parole sono proiettili di parole che feriscono Sono proiettili di parole che colpiscono e attraversano tutte le persone Proiettili di parole sono proiettili di parole Che mirano al cervello nessuna opinione Precariato figlio della cecità moderna figlio amato solo dalla sua cattiva stella Che esplodi supernova di valore e dignità illumina il buio intellettuale della società Madre di geni e bellezze madre di demoni che hanno seppellito le loro coscienze Questo cuore che esplodi di dolore nel vedere tanta verità Ogni giorno che muore leccando il culo giusto attento a non sbagliare Perché se io mi inchino a terra c'è qualcuno da rialzare Lo studio balistico della traiettoria è una scienza esatta che causa paranoia Come l'agocentrismo e la persecuzione io non so molte cose ma so cos'è l'onore E strisciare a mio parere non è il modo giusto per pulire il marcio accumulato in questo posto Di parole sono proiettili di parole sono proiettili di parole Che colpiscono e attraversano tutte le persone Veniamo alla cronaca a Palermo, cerimonio solenne di Savamo, migliaia di persone Le ricordo del giudice Borsellino e degli agenti della sua scorta Trucidati 18 anni fa dalla mafia La gente ricorda con affetto ma ha voluto escludere quei gruppetti delle cosiddette agende rosse comuniste Che ieri hanno tentato di dare una svolta ideologica a questa manifestazione Disinformazione sulla quarta rete La gente di cazzate in fondo ha sempre sete Vedo Emilio parlare alla tv Fede nell'informazione io non ne ho più Presunti giornalisti senza cultura Non sanno la storia di chi alla mafia ha fatto lotta dura Agende rosse confuse coi partiti Ma dove cazzo vivi nel mondo dei gormiti? Noemi, Patrizia e infine Rubi Ballavano a Palazzo Grazioli sui cubi Al Cavaliere Emilio piacciono le ragazzine Vanno tutte bene dalle italiane alle marocchine Vespe che ronzano sui frotti dolci del potere Hanno lingua lungo metra a forza di le calcedere Le calcedere nei che macchiano la credibilità delle interviste Ma che cazzo hai fumato? Ti sei fatto delle piste? Di parole Sono proiettili di parole Che feriscono Sono proiettili di parole Che colpiscono e attraversano tutte le persone Proiettili di parole Sono proiettili di parole Che feriscono Sono proiettili di parole Che mirano al cervello nessuna opinione Che feriscono Che feriscono Che feriscono Che feriscono Che feriscono io non lo so più dalla parte giusta io non lo so più